Tante persone dicono che la Russia possa fare un'altra guerra mondiale, la terza. Ma chi si dovesse mettere contro la Russia? Che fine farebbe? A le persone che lo sfideranno potrebbero accadere molto brutte cose, visto che questo stato, la Russia, molto grande, molto potente, sotto il comando del presidente Putin, mi correggo, Vladimir Putin, sono molto brutti. E anche il suo popolo, il popolo di Putin, tutte quelle persone possono comprare i soldati, soprattutto i soldati, possono fare molto male, ma veramente molto male, specialmente quelli di Mosca. Ma come potete vedere, questa bellissima città, Mosca, se dovreste andare a sfidarla, vi succederà questo. Mi correggo di nuovo alla vostra città, succederà questo. Grazie a tutti.